Fabio Giulivi è il sindaco di Venaria Reale, oggi una bella soddisfazione avere qui 312 sindaci in questa cornice unica in Piemonte e in Italia. Sì, davvero un motivo di orgoglio per la mia amministrazione e per tutta la città, perché davvero è un momento speciale il fatto che la Regione abbia deciso di condividerlo per quanto riguarda l'area metropolitana di Torino qua a Venaria è per noi davvero un motivo di grande gioia. È difficile oggi fare il sindaco? Sì, l'ho detto nel mio intervento, è molto complicato, siamo la prima trincea istituzionale, i cittadini in questo momento sono in grande difficoltà a causa appunto della pandemia, della crisi e si aspettano dai comuni quale primo ente di prossimità delle risposte, quindi siamo continuamente sollecitati, infatti il mio appello è stato quello alla Regione Piemonte di aiutare i sindaci del territorio a non perdere la possibilità straordinaria di questo post pandemia e dei fondi che cadranno sul territorio.